Il picco di contagio di casi covid tra adulti e bambini delle scorse settimane aveva determinato una nuova emergenza ed il blocco delle attività nei presidi ospedalieri ora però si riprende a pieno regime. Si tratta di attività ordinarie e necessarie quali quelle legate alla prevenzione, le attività ambulatoriali afferenti a diverse branche specialistiche. A fare il punto della situazione il direttore generale degli ospedali di Nocera Inferiore, Pagani e Scafati, Maurizio D'Ambrosio, tra i posti letto a disposizione nei presidi, quelli in questo momento occupati e l'attività riferita alla rete di emergenza urgenza. L'ultima settimana si sta vedendo un picco che sta incominciando a scendere e diciamo che questo può essere un buon segnale anche per rivedere, rimodulare un poco tutta l'attività assistenziale. Dobbiamo essere sempre prudenti, bisogna vaccinarsi, il comitato tecnico scientifico ha raccomandato di utilizzare anche le mascherine nell'ambito di spazi aperti e questo è quello che dobbiamo fare. Continuare a fare i vaccini, mi sembra che all'orizzonte si vedano questi farmaci per la cura della malattia del Covid, quindi sono buone notizie che ci devono dare, come devo dire, coraggio e cercare di resistere rispetto a questa grossa emergenza. L'attività di urgenza e emergenza sull'ospedale di Nocera ovviamente è molto piena, continuano ad arrivare persone da tutto l'agro nocerino sarnese, stiamo anche notando un picco di persone che vengono dai paesi vesuviani, zona anche molto interna napoletano per alcune branche specialistiche e questo ovviamente pone un grosso impegno lavorativo di risorse e alle volte anche per alcune specialità dove non abbiamo ancora avuto la possibilità di acquisirle perché stiamo portando a termine i concorsi principalmente per gli ortopedici, per i medici di pronto soccorso, per i neurochirurghi, speriamo che per questo mese si possano incominciare ad acquisire le domande di adesione per incominciare a ruolare personale.